Sotiris Martalis è un insegnante di Atene, insegna chimica e fisica nei licei, ma è anche membro del comitato centrale di Sirisa e attivista nel sindacato. Con lui vorremmo sapere innanzitutto qual è la situazione sociale in Grecia nel momento in cui si comincia a parlare di un ennesimo memorandum. In realtà il governo ha signato molte nuove misure, misure che vediamo sulle pensione, sulle sanità pubblica, sulle educazione. Quindi tutte le misure del memorandum in realtà continuano e non stoppano fino a che il movimento o il governo della direzione lo stoppano. In realtà il governo sta continuando a firmare misure che riguardano pensioni, settore pubblico, insegnanti, sanità e continuerà a farlo finché il movimento e la sinistra non li fermeranno. Infatti i sondaggi danno Sirisa come la forza che molto probabilmente guiderà il prossimo governo greco. Come viene vissuto dal partito questa situazione di apprestarsi a guidare una società greca? Su quali parole d'ordine? Prima di tutto, Sirisa ha annunciato nel suo programma che una delle prime misure è che quando ha il governo, si vota per il governo, si vota per una nuova legge che si può scendere il memorandum e tutte le legge che si avvicinano dopo il memorandum. e anche Sirisa prende le misure, non per le riche persone, ma per la società, per le mali persone, per la salute, per l'educazione. è esattamente l'opposizione del programma che la rivoluzione e i conservativi, la nuova democrazia, stanno facendo ora. Si donano alle banche e alle riche persone e si prendono dai poveri. Sirisa, come ha annunciato nel programma, ha intenzione di promulgare leggi per cancellare i memorandum e tutte le leggi che sono seguite a questi memorandum e quindi soprattutto ciò che riguarda istruzione, salute, welfare in genere. Sicuramente l'intenzione come da programma è quella di dare maggiori privilegi tolti alle persone che ne hanno bisogno, alle classi più povere, esattamente al contrario di ciò che fanno le classi adesso dominanti, quindi di dare alle banche, dare ai ricchi e togliere ai poveri, alle classi lavoratrici. Parliamo un attimo ancora di Sirisa. Marta Liss fa parte di DEA, che è una delle componenti, uno dei partiti che hanno dato vita a questa coalizione. Più o meno un terzo di Sirisa si è raccolto intorno a una piattaforma di sinistra che ha delle posizioni diverse da quelle di Tsipras e della maggioranza. Ci spieghi un attimo quali sono le differenze in questo momento fra la maggioranza e l'opposizione di sinistra dentro Sirisa? Sirisa è una coalizione e ora una organizzazione politica che ha una storia di più di 10 anni. In questi 10 anni, abbiamo construito una mentalità di democrazia, di discussione, magari una discussione difficile con le differenze politiche, ma sempre è una forma di affrontare con i problemi, una grande discussione democratica dentro del Partito. Quindi ci sono differenze, differenze per quale coalizione si tratta per un governo di sinistra, come possiamo successare il governo di sinistra. Ci sono differenze per l'euro e l'eurozone per rimanere o non per rimanere, ma tutte queste differenze sono vivere dentro Sirisa e noi prendiamo le decisioni e tutti i partiti fanno fuori con le principali cose che abbiamo deciso. Sirisa ha una storia di più di 10 anni e sempre ciò che l'ha caratterizzata è stata la discussione democratica all'interno del partito e quindi tutto ciò che sono le decisioni, le discussioni, sono magari difficili con differenze di posizioni, però sempre prese democraticamente. Le differenze riguardano sicuramente come costruire il governo della sinistra, quali sono le alleanze e anche questioni riguardanti l'euro e l'Europa, quindi stare dentro o uscire, però tutto ciò continua ad essere sviluppato in modo democratico ed è quello ciò che vogliono continuare a fare e sta funzionando. Allora l'ultima domanda riguarda la vita interna al sindacato. Martellis fa parte di un'esperienza di una corrente sindacale che si chiama Metà. Se ci può spiegare come funziona appunto la vita interna del sindacato in Grecia? In Grecia, dopo due anni, grandi e difficile combattere contro le misure e il memorandum, non posso ricordare tutto il passato anno, anche una settimana senza un'esperienza. Metà e le forze politiche di Syriza supportano questo movimento, supportano tutte queste un'esperienza. Per esempio, l'exilio di 600 sottotitoli del ministro di Finanza, facendo una scena, un'occupazione e un'esperienza per 6 mesi. e la Syriza, ogni giorno, è in metà, ogni giorno, è in strada, con i cleaners, in questo fight. La Syriza fa questo in ogni strada, in ogni movimento, e le forze di Metà anche. In questo periodo, in questi anni, ci sono stati moltissimi scioperi. L'ultimo, che ricordiamo, è quello delle 600 lavoratrici delle pulizie, che sono state licenziate dal Ministero delle Finanze. E Syriza è sempre stata a fianco, Syriza e Metà sono sempre state al fianco dei lavoratori in sciopero, continueranno a farlo. E questo è sempre stata la posizione, appunto, sia del sindacato di Metà che di Syriza all'interno. In Italia seguiamo molto quello che combina Alba Dorada in Grecia. Dopo la decapitazione dei suoi vertici, Alba Dorada continua a imperversare sulle strade della Grecia contro i migranti, contro le attività della sinistra? In realtà è un grande problema, perché sono reali nazi. Non sono da lì, ma sono nazi. Ma prima della scuola e tutto ciò che accadeva, si avvicinano nelle vicende, negli immigranti e sottotivano i migranti. Così sono reali dangerous. Anche ora hanno attaccato in le ultime elezioni 9,5%. Così la guerra è continuata. Ma il problema principale per la partecipazione per la partecipazione del fascista è che pensano l'austerità, che tutte le classi pensano che hanno dato il pane, hanno dato il cuore ai nazisti, possono crescere per causa delle problematiche. Quindi hanno dato esplicazioni che per l'austerità e la poverza il problema sono gli emigranti. Quindi la principale cosa per la partecipazione è il lavoro antiracistico, per esplicare e per lavorare per questo nelle strade, che tutti i problemi, l'austerità, la poverza, i problemi della salute, è venuto dalla polizia della classe regolata e non dagli emigranti. Gli emigranti hanno problemi e non ci sono i problemi. Alba Dorata, prima degli arresti, ha commesso omicidi contro migranti e dopo gli arresti, in realtà, ancora loro fanno leva sulle difficoltà delle persone, spiegando loro, dando loro la facile risposta che il problema sono gli emigrati e che appunto sono loro a rendere la vita difficile alle persone che si trovano in povertà. Ciò che deve fare la sinistra è di lavorare sul fronte antirazzista e spiegare appunto che il problema è la classe dirigente e non l'immigrato che ruba benessere alla popolazione.